E come avete percepito, intuito dalla sigla e come ogni martedì torniamo a parlare anche di salute, lo facciamo grazie ad un altro graditissimo ospite, il dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a voi. Siamo veramente grati della tua presenza qui nei nostri studi perché ci aiuti ad essere più consapevoli nella nostra alimentazione quotidiana. Allora, ci sono tanti detti che ci aiutano a capire quanto sia importante mangiare bene perché il cibo è un po' come se fosse, forse esagero un po', ma magari neanche tanto. La nostra prima medicina. Esattamente, millenni fa qualche medico disse noi siamo quello che mangiamo ed effettivamente negli ultimi 50 anni sono aumentate le patologie perché è peggiorata la qualità del cibo che ingeriamo. Per rendere più produttivi i campi si erorano i pesticidi, i insecticidi, i concimi che a livello fisico e fisiologico del nostro corpo causano danni. Non a caso negli ultimi 50 anni sono aumentate a dismisurare le allergie, le intolleranze e le patologie oncologiche. È un dato di fatto. È un dato di fatto, dimostrato dalla medicina con i numeri e non con le parole. Ci sono i numeri che dimostrano questo. Ecco, ricerche, statistiche, dati che devono farci appunto, renderci più consapevoli del fatto che mangiare bene significa stare meglio e che quindi il gesto di nutrirsi non può essere un gesto scontato, abituale, non ragionato. E noi siamo qui per questo, anche perché poi in realtà siamo a metà maggio e vediamo all'orizzonte l'estate. E l'estate è un po' forse anche scioccamente, mi permetto di dire, è quella stagione in cui poi a tutti i costi vogliamo stare in forma perché c'è la fatidica prova costume. Ma con ogni probabilità, adesso tu me lo confermerai, mangiare bene, curare la nostra salute deve essere una buona pratica che deve durare tutto l'anno, non soltanto alle porte dell'estate. Esattamente, la parola dieta deriva dal greco, daita, quindi significa stile di vita e non arrivare a maggio e fare magie, diete iperproteiche, drastiche, la dieta verde, la dieta della mela, la dieta del minestrone, per perdere chili, ma molto probabilmente molti di massa muscolare e acqua per poi andare al mare e fare questa famosa prova costume. Noi siamo quelli che mangiamo e quindi dovremmo sempre adottare uno stile di vita che ci consente sempre di stare bene, anche perché la prevenzione si fa a tavola, anche per prevenire patologie più serie, non solo la prova costume che non è una patologia, insomma una fissazione della gente prima di andare al mare. Vedrai, in questo periodo si riempiono le palestre, si riducono le uscite goliardiche con alcolici e pizza e quant'altro, tutti diventano salutisti, però purtroppo si risolve poco con un mese e molte volte si fanno diete assurde, tipo delle diete iperproteiche, dove si va solo a alterare il metabolismo del corpo, poi quando si ritorna a mangiare si rifanno altri danni, il famoso effetto yo-yo, ne perdi 5 e ne riprendi 15. Allora proviamo a tracciare un percorso lineare per un'ipotetica persona che non ha patologie o esigenze particolari, ecco durante il corso dell'anno una persona che volesse adottare un regime alimentare equilibrato, che cosa dovrebbe mangiare? Perfetto, allora io in questi 20 anni di lavoro ho visto che il problema fondamentale è l'eccesso del carboidrato, quindi della pasta, del pane, della pizza, in generale tutti i farinaici. E mi sono anche reso conto che la famosa dieta mediterranea, come è interpretata adesso, fa aumentare di peso, perché la dieta mediterranea aveva un senso 60-70 anni fa quando la gente lavorava manualmente e fisicamente 7, 8, 10, 12 ore. Adesso dove il lavoro manuale non lo fa più nessuno, introitare il 60% di carboidrati è un eccesso. Quindi se c'è meno attività fisica, bisognerebbe ridurre. Siccome i lavori ormai sono poco manuali, sono molto sedentari, bisognerebbe sì più o meno avere uno stile mediterraneo, ma ridurre un po' il carboidrato anche al 40%, o anche fare dei cicli un giorno sì e un giorno no a pranzo, quindi non esagerare, anche perché quelle 2-3 ore di palestra e di allenamento a settimana non vanno a sopperire alle 10 ore di lavoro fisico che facevano prima. Assolutamente d'accordo con te. E poi ad una sana alimentazione, probabilmente lo abbiamo già sottolineato in precedenti occasioni, bisogna mantenere anche alto un livello di vita attivo. Esattamente, un po' di attività fisica. Questo consente di allenare il muscolo e di conseguenza più muscolo c'è, più il corpo, più la persona ha muscolo, più consuma calorie, perché il muscolo è il nostro motore. Più è grande, più consuma. Io faccio sempre l'esempio della cilindrata di una macchina. Più è grande, più consuma. La stessa cosa nel nostro corpo. Più massa muscolare c'è, più il corpo consuma calorie. Poi, se ci sono problematiche a livello di tiroide, una shimoto, una tiroidità tommune, lì si ha un rallentamento del metabolismo. Però il metabolismo tendenzialmente è normale in tutti. Poi, se ci sono delle patologie, viene rallentato. Ma dipende dalla massa muscolare. E un po' dall'età, perché più si va avanti nell'età, più si rallenta. Come anche la donna in meno pausa. Molto bene. Dato che abbiamo ripreso questa piacevole abitudine, questo piacevole appuntamento settimanale, dove parliamo appunto di sana alimentazione, dottore, ci vuole ricordare la sua mail? Perché magari quanti ci stanno ascoltando, se vogliono, possono scriverle per fare anche qualche domanda, richiedere di parlare di qualche tema. Sarà nostro assoluto piacere appunto poi focalizzarci nelle prossime puntate su quello che ci chiedono. Certo, l'indirizzo mail è dr.cusenzasalvatore.gmail.com Oppure potete fare anche domande tramite i social, Instagram, Messenger o quant'altro. Perfetto, dove ti troviamo? Al centro medico Lumas, a San Giovanni, oppure anche al centro medico Da Vinci a Foggia, San Severo, al centro Fasani a Lucere e a Bari alla clinica Villa Igea. Molto bene, la mail è semplicissima, quindi dr.cusenzasalvatore.gmail.com All'indirizzo gmail.com Scriveteci le vostre curiosità, le vostre domande, perché già dalla prossima settimana potremmo rispondere ad alcune delle vostre mail. In tv, lo diciamo sempre, il tempo evapora, per cui anche la nostra chiacchierata giunge al termine. Quindi niente stress da prova al costume, ma piuttosto una vita equilibrata, basata sulla sana alimentazione tutto l'anno. Esattamente, quindi non esagerare l'ultimo maggio, non fare queste diete drastiche dove si elimina tutto, ma cercare di avere un equilibrio durante tutto l'anno e esagerando durante le feste. Perché è anche giusto questo, fare festa. Questo ci fa piacere. Sempre, ecco però, in un'ottica di bilanciamento, no, accoglievo anche, facevo anche mio il suggerimento di ridurre l'utilizzo di carboidrati, pasta, pane, derivati, se non abbiamo una vita particolarmente dinamica, e poi cercare di fare un po' di movimento. La classica passeggiata, ecco, in chiusura, può aiutarci? La classica passeggiata, se fatta in modo veloce, ha un senso. Allora, la camminata veloce a 6 km l'ora, cosa significa? Ogni 10 minuti bisogna percorrere un chilometro, ha un dispendio di tessuto, un consumo di tessuto adiposo maggiore della corsa. La corsa consuma più glicogeno, che è lo zucchero contenuto nel muscolo. 70-80% di glicogeno, 20% di tessuto adiposo. La camminata veloce a 5, 8, 5, 9, 6 km l'ora consuma molto tessuto adiposo e poco glicogeno. E questo è un grosso vantaggio, anche perché a livello di stanchezza fisica ce ne dà anche di meno, meno compressione della schiena e delle ginocchia. È più efficace per chi deve perdere tessuto adiposo. Bene, allora mangiamo sano, facciamo attività fisica, possibilmente la camminata veloce, magari non in strada, ci sono i parchi, ci sono le montagne, ci sono i sentieri. Non vogliamo vedervi schizzare per strada, perché abbiamo detto prima non ci siamo solo noi per strada, ma anche gli automobilisti. E quindi vi auguriamo con il dottor Salvatore Cusenza una buona e sana alimentazione. E ci ritroviamo martedì prossimo, stesso posto, stessa rete. Stesso posto, stessa ora. Buona giornata a tutti. Grazie mille, a prestissimo. Grazie a tutti.